Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento di via Cadolfina hanno trovato la donna con il volto ricoperto di sangue, il naso rotto per i colpi subiti, segni di un tentativo di strangolamento sul collo, brutalmente picchiata dal compagno, vittima di violenza, solo perché lei, quell'uomo, lo voleva lasciare. A chiamare il 112 martedì mattina è stato un passante allarmato dalle urla. La situazione che si è presentata agli operanti è stata quella di una persona sequestrata in casa dal convivente, il quale aveva chiuso ad opera la porta blindata della sua casa, nascondendo le chiavi all'interno del sorgelatore. Gli operanti chiedevano ovviamente a questa persona di aprire la porta, cosa che viene negata, e quindi accedevano dal terrazzo utilizzando l'ausilio dei vigili del fuoco. I militari si sono trovati di fronte alla donna ferita e impaurita, sul convivente invece nessun segno di aggressione. La 37enne è stata portata al pronto soccorso dove le sono stati riscontrati diversi traumi, tra cui la frattura del seno mascellare e una distorsione alla colonna cervicale che il compagno le ha procurato sbattendole la testa sul pavimento. La prognosi iniziale è di 30 giorni. L'uomo, Marco Moro, 42 anni, bassanese, è stato ammanettato e portato in carcere. Già sabato scorso c'era stata una prima violenta lite tra i due, anche in quel caso la donna era stata picchiata ma non aveva asporto denuncia. Da qui mi permetto di rivolgere un appello a tutti i cittadini, in questi casi non abbiate timore, presentatevi presso i nostri uffici, formulate il numero di emergenza, contrattateci in qualunque modo. È l'unica vera possibilità per le forze dell'ordine di aiutarvi. Ora Moro dovrà rispondere di sequestro di persone e di lesioni personali dolose, il senso civico del cittadino che ha chiamato le forze dell'ordine e la prontessa dei militari dell'arma hanno evitato la tragedia.